Era stato arrestato il 23 ottobre scorso dai carabinieri nell'ambito della maxi-operazione Neve di Marzo. E' rientrato in Italia dopo l'estradizione in Spagna ed ora in custodia cautelare nel carcere romano di Rebibbia. Si tratta di Danilo Pietro della Malva, 33enne viestano, per gli investigatori affiliato di spicco della cosiddetta Quarta Mafia di Capitanata, organizzazione capillare attiva nel traffico di stupefacenti, cocaina, hashish e marijuana, e caratterizzato dalla crudeltà dei metodi adottati, dall'alto coefficiente di violenza, dall'uso spregiudicato di armi lunghe come i fucili AK-47 Kalashnikov o i calibro 12 caricati a pallettoni. Della Malva era stato rintracciato alle isole Canarie in Spagna, precisamente nella città di Maspalomas. Per arrivare alla cattura è servito un mandato di arresto europeo su richiesta della DDA del capoluogo pugliese. Bloccato nel paese iberico, l'ordine europeo di indagine messo a suo carico ha portato prima ad una perquisizione, eseguita Maspalomas dalla polizia spagnola con l'assistenza dei carabinieri di Foggia. Poi al sequestro spiegano i militari in una nota di documentazione ritenuta dagli inquirenti utili a dimostrare la sussistenza dei reati contestati e l'implicazione del 33enne nei traffici in questione. Un business nel quale il centro carganico risulta vero e proprio hub, in virtù principalmente del flusso turistico dal quale è sempre più interessato.